In una società che soffre molto dei precedenti storici, quindi in una città come Napoli nel momento in cui vado a dire a mamma, non io, guarda che domani parto per Milano E' proprio così che succede, nel senso viene visto come traditore, cioè quanto più caldo il numero familiare, più triste sarà la partenza. In questo caso la partenza per lo spazio è vista, ma questa cosa la diciamo tra di noi perché non possiamo scorerarla, proprio come la minaccia dell'estinzione della razza omana cioè nel senso proprio sacrificare le proprie origini a un ritollo e credo che in questa cosa siamo molto...